Dammi il potere di provocare la febbre ed io sarò in grado di curare ogni malattia. Ippocrate. Buongiorno a tutti, sono Fatima Mocci, operatore del benessere, estetista, direttore tecnico e mi occupo prevalentemente di trattamenti olistici, di massaggi e trattamenti olistici, quelli che riguardano il corpo, la mente e lo spirito. Oggi per la rubrica del benessere voglio parlarvi di sauna. Forse non tutti sanno che in passato la sauna era considerata un sinonimo di benessere. Nella vita frenetica la sauna era una pausa comunque ed era ritenuta la parte più pulita della casa. In sauna si curavano le ferite, addirittura si assisteva alla nascita dei bambini e si curavano le malattie. Lo sapevano bene e lo sanno bene i popoli sudamericani che ancora oggi continuano a farne quell'uso. Nelle capanne sudatorie veniva anche scavato il terreno in maniera da formare una sorta di tana come fosse una culla per essere abbracciati dalla madre terra. Negli antichi insediamenti azzecchi le donne partorivano in queste capanne sudatorie per beneficiare del calore lenitivo e rilassante ed alleggerire quindi le doglie. Le saune erano, le capanne sudatorie così chiamate, erano praticate e consigliate dagli sciamani proprio per il benessere e per la purificazione del corpo e della mente. Per molti popoli, tra cui anche gli indiani sioux, questa funzione di purificazione era veramente importante. Ancora oggi la sauna è considerata fonte di rilassamento muscolare e comunque di purificazione del corpo e della mente. La sauna tradizionale nasce in Finlandia dove veniva praticata già nel 1100 in un buco scavato nel terreno e poi coperto. Poi diventa successivamente una piccola capanna ed era sempre posta vicino a una casa, quindi c'era questa casetta di legno, questa capanna di legno sempre posta vicino alla casa e generalmente presso un fiume o comunque un corso d'acqua o un lago, in maniera che potevano farsi il bagno sia d'estate che d'inverno. Le motivazioni non sono cambiate. Gli effetti della sauna sono rimasti gli stessi perché sudare aiuta a eliminare le tossine e stimola le funzioni degli altri organi. Il calore dilatta i vasi sanguigni, quindi aiuta il sistema immunitario e rilassa i muscoli e le giunture e allenta la tensione nervosa. Poi pulisce e rende elastica la pelle perché comunque sudare accelera il metabolismo e comunque dà un relax immediato. Con un bagno di calore si hanno molteplici benefici e questi benefici intervengono sia sulla circolazione sanguigna che su quella linfattica, intervengono sulla respirazione e quindi migliorano la resistenza alle infezioni e diciamo che prevengono comunque sia più resistenti alle sinusite, ai raffridori, alle influenze in genere. Inoltre attraverso il sudore vengono eliminate le tossine perché questo bagno di calore è fondamentale per fare traspirare e per far eliminare quindi attraverso il sudore queste tossine e i rifiuti della pelle. Il bagno di calore altro non è che la sauna. Ci sono vari tipi di saune, cambiano a seconda della temperatura, dell'umidità dell'aria e poi i diversi metodi di esecuzione dipendono tanto anche dalla familiarità che si ha e dalla resistenza della persona che la fa. Diciamo che il metodo classico, quello standard tra virgolette, è considerato un primo bagno di aria secca dove si sta 10-15 minuti chi resiste di più, poi successivamente si versa l'acqua sopra queste pietre in maniera da creare un vapore, però è un vapore, le pietre sono bollenti, sono incandescenti, quindi questo vapore è un vapore surriscaldato e si sta ancora in questo ambiente umido per altri 15-20 minuti al massimo in modo da favorire questa abbondante sudorazione. Poi si fa un attimo di relax, si esce dalla sauna, si fa un attimo di relax che è importante e a seguire una doccia gelata e le popolazioni nordiche fanno un bagno molto freddo proprio di acqua gelata. In vero la cosa importante sarebbe uscire all'aria aperta perché uscire all'aria aperta dopo una sauna è un tocca sana per le vie respiratorie perché sembra che aiuti a liberare i polmoni dall'umidità trattenuta e quindi successivamente comunque la doccia e il bagno ci stanno benissimo. Quindi farli seguire a questa boccata d'aria è importante. Questo rituale può essere ripetuto più volte, magari con tempi più corti. Il segreto quando si fa la doccia è puntare il getto dell'acqua distante dal cuore, per cui magari se vogliamo che non resistiamo fare prima una doccia tiepida e poi più fredda e puntare appunto il getto d'acqua sulle gambe, sui piedi partendo sempre dal destro per cui lontane dal cuore e poi gambe, mani, schiena e testa alla fine della doccia. C'è chi dopo questa doccia ricorre a un bagno freddo, ma freddo freddo, 10-16 gradi. Diciamo che è una vasca di reazione e poi si friziona il corpo con un guanto di crine. In realtà in Finlandia usano frustarsi, delicatamente, con dei ramoscelli di betulla che loro raccolgono d'estate perché sono molto rigogliosi, hanno tante foglie, poi li mettono a seccare e d'inverno quando li utilizzano per le saune li bagnano prima come per farli rinvenire, diciamo, e con questi si, per farli riprendere. Quindi questa tecnica si frustano con questi ramoscelli, questa frusta particolare e questa tecnica prova uno sfregamento della pelle che favorisce ancora di più la sudorazione. Però c'è da dire che un veloce e drastico raffreddamento del corpo non è indicato alle persone che hanno problemi di circolazione, quindi perché le vene periferiche si chiudono, si restringono molto velocemente e quindi l'acclimatamento della pelle è più lento, per cui si rischia che le impurità rimangono nel sangue, comunque che si rinnovino i vasodilatatori e il cuore inizia a battere più velocemente e poi si ha la pelle d'oca. Per chi non sopporta la doccia fredda dopo la sauna, allora può ricorrere alla sauna a raggi infrarossi, perché la sauna a raggi infrarossi si distingue da quella tradizionale in quanto non raggiunge altissime temperature, al massimo arriva a 60 gradi. È praticamente un bagno di calore secco, che dà una piacevole sensazione rilassante come quando si sta al sole, quando ci si abbronza, quando comunque si prende il sole. Una delle differenze fondamentali degli infrarossi è che riscaldano direttamente il corpo senza riscaldare troppo l'aria e quindi il corpo assorbe il calore dell'infrarosso. E poi la temperatura si può tenere chiaramente più bassa perché comunque l'effetto arriva lo stesso. Anzi, non si perde l'efficacia della sauna e diciamo che anche se non si suda tanto, la sauna a infrarossi mantiene lo stesso i suoi effetti benefici, perché è comunque un bagno di calore. Quindi si può stare più tempo, la doccia fredda non è necessaria, tutt'al più è consigliata per un effetto rassodante e comunque la sauna infrarossi è stata definita il nuovo erisir di lunga vita. Vediamo come agisce e la reale differenza tra la sauna infrarossi e quella tradizionale. L'infrarosso penetra il derma e inalza la temperatura corporea, lavorando dall'interno. Quindi possiamo dire che la sauna infrarossi unisce i benefici della sauna tradizionale a quelli dei raggi solari. Vengono facilmente assorbiti perché i raggi, che sono di tre tipi, onde medie, corte e lunghe, vengono distribuiti in maniera che arrivino dappertutto, per cui hanno un'energia maggiore e la persona è avvolta da questo calore e avvolta da questi raggi. Mentre nella sauna con le pietre il calore tende a salire perché il calore normalmente va in alto. Quindi diciamo che non è proprio omogenea. La radiazione delle saune a infrarossi è creata artificialmente, però il tipo è identico a quello solare e quindi possiamo averla a qualsiasi ora e anche con qualsiasi tempo. A parere dell'odierna medicina la sauna a infrarossi è il migliore investimento in salute a lungo termine. Vediamo perché. I raggi penetrando in profondità hanno un effetto riscaldante nei muscoli e negli organi interni e il corpo reagisce a questo con un aumento del battito cardiaco. Quindi l'infrarosso è come una terapia ad azione localizzata per esempio per la schiena, per le articolazioni, in corrispondenza della sorgente dove arriva l'infrarosso, ci si posiziona e questo infrarosso cura praticamente, aiuta nei casi di artrosi, di sciattica, di reumatismi. Ma perché ha questo potere curativo? Fondamentalmente perché la sauna riproduce una febbre artificiale. Noi sappiamo che la febbre è una reazione del nostro corpo alle malattie, quindi è una difesa dell'organismo. La sauna aumenta fino a 3 gradi la temperatura interna corporea e quella in superficie molto di più, quindi simula una febbre alta e molti batteri vengono sconfitti e a una determinata temperatura muoiono. Non ho scelto a caso la frase di Ipocrate all'inizio, dammi il potere di provocare la febbre e io sarò in grado di curare ogni malattia. Quindi riassumiamo i benefici della sauna. La sauna disintossica il corpo attraverso la sudorazione e si eliminano i metalli pesanti. In un quarto d'ora di sauna a infrarossi aiuta a eliminare, elimina la stessa quantità di metalli pesanti che i reni eliminano in 24 ore e questo è molto importante. L'infrarosso scaldando in profondità aiuta a eliminare 7 volte in più le tossine, più di una sauna tradizionale, 7 volte in più di una sauna tradizionale. Comunque anche la sauna tradizionale aiuta a eliminare le tossine perché se noi sudiamo eliminiamo le tossine. Rilassa i muscoli, riduce lo stress. Il processo di sudorazione aiuta a eliminare l'acido lattico in eccesso attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni e quindi aumentando il flusso di ossigeno ai muscoli riduce il gonfiore e il dolore. E' quindi particolarmente indicata per chi soffre di fibromialgia. Migliora la pelle, le creme deodoranti, gli oli e le cellule morte ostruiscono i pori e causano acne, brufoli, punti neri, mentre con la sudorazione il calore apre i pori e quindi eliminiamo le tossine, i vasi sanguigni si dilatati e aumentano il flusso di ossigeno e quindi si eliminano oltre le impurità anche le cellule morte. Poi aiuta a dimagrire, non per l'effetto della sudorazione perché i liquidi vanno comunque rintegrati, ma perché per l'aumento della frequenza cardiaca che accelera il metabolismo e praticamente questo richiede una grande quantità di energia. Allora in una sauna tradizionale si calcola che si bruciano sulle 300 calorie, mentre 30 minuti di sauna infrarossi bruciano 600 calorie, che sono approssimativamente quelle che si consumano camminando 20-30 minuti e una sauna infrarossi corrispondono a 10 chilometri di corsa, 30 minuti di una sauna infrarossi, quindi non male considerando che ci si sta rilassando sdraiati o seduti al calduccio e il sistema immunitario ne beneficia perché la sauna rinforza il sistema immunitario e allevia i dolori, come abbiamo già detto, perché simula questa febbre artificiale e inoltre serve appunto per gli stati influenzali e per prevenirli e per creare maggiore resistenza e favorisce questa migliore circolazione, favorisce il rilascio di endorfine che danno ossigerazione, hanno proprietà analgesiche, danno benessere, quindi una migliore ossigerazione, riducono il malessere e accelerano le guarigioni e quindi aiutano in caso di artrosi, spasmi muscolari, reumatismi, per cui il bagno di calore favorisce il rilassamento e aiuta il sono notturno. Ovviamente è consigliato a fare una doccia calda prima, meglio ancora se è un leggero scrabi, in maniera da dare la possibilità al corpo di eliminare, di aprire i pori, di cominciare ad aprire i pori e di cominciare a sudare in maniera da avere un effetto benefico e avere già cominciato a dilattare i pori. Naturalmente non bisogna fare pasti troppo abbondanti né bere bevande eccitanti che aumentano il ritmo cardiaco, quindi controindicata nel caso di febbre. E poi ci sono chiaramente delle controindicazioni che però non sono molto gravi, nel senso che va bene nei primi giorni del ciclo per motivi di igiene, perché comunque aumenta il flusso sanguigno, per cui chi ha problemi di emorragie, per esempio gli emofiliaci è controindicata, pure controindicata anche per chi ha problemi di ipotensione, bisogna stare attenti, per esempio quella infrarossi, basta fare attenzione perché non è forte come l'altra. Un ultimo consiglio, concedete del tempo a voi stessi, perché il vero segreto della sauna è il tempo. Un proverbio finlandese dice che nella sauna non c'è fretta, perché per godere degli effetti rilassanti non si può avere fretta. Non c'è un rilevamento dei benefici psichici in realtà, però è un dato di fatto che dopo un bagno di calore si provano un rilassamento psicofisico, una diminuzione dell'ansia e quindi una sensazione di energia e quindi è considerato un investimento, consideratelo un investimento per il benessere e per la salute del futuro. Io ora vi saluto e vi aspetto qui la prossima puntata, la prossima settimana. Per ogni chiarimento sono a disposizione al numero 345-812-0427 e per chi desiderasse fare una chiacchierata di persona, ricevo previ appuntamento a Conigliano in Via Verdi 17F. Un abbraccio virtuale da Fatima.